Buongiorno e benvenuti a questa diretta. L'argomento che mi preme affrontare oggi è l'incarico di governo conferito al professor Cottarelli dal capo dello Stato italiano. L'incarico di governo conferito a un economista, un tecnico, il quale certamente preparerà una squadra di governo tecnica, quindi non di volontà popolare, la volontà popolare italiana viene ignorata oramai da anni, ma di volontà europea, che significa di nuovo lacrime e sangue, di nuovo leggi e provvedimenti che ci mantengano entro i parametri stabiliti in modo arbitrario e comunque parametri troppo restrittivi per un paese come il nostro che ha un debito pubblico spaventoso, che nel frattempo dopo l'ingresso nell'Euro è diventato veramente impossibile e ci costa quotidianamente fior dei quattrini. Vale la pena di proseguire su questa strada, è giusto soffrire in questo modo per avvantaggiare altri paesi contro i quali non ho niente personalmente, però mi sembra che l'Italia sia una colonia che viene sfruttata e oltretutto viene anche sbeffeggiata perché abbiamo assistito anche a espressioni da parte della stampa tedesca poco gratificanti nei nostri confronti. Allora cosa vogliamo fare? Se vi piace questo video condividetelo per favore. Ciao, buona giornata.